La differenza la fa il coraggio. Quando un rapporto è terminato ce ne vuole per fare in modo che la fine non sia traumatica. Invece quando il coraggio non c'è, due sono le strade. Se un uomo non è cordileone fa di tutto perché la donna si stanchi, non la chiama, la tratta male fino a che lei non se ne va. Esattamente come ha fatto Giovanni Bucaro con Claudio Mauri e Gianandrea De Cesare, salutando in modo signorile visto che la sua dignità era stata ampiamente messa in discussione. La seconda possibilità è che invece ci sia un'altra donna e allora l'uomo non resta che presentare un quadro triste alla compagna, esagerando e aggiungendo particolari che rendono la situazione ancora più drammatica, proprio come ha fatto la tria di Sidicas con il giovane Carlo Musa, che dopo essere stato messo spalle al muro con eleganza ha declinato la proposta, per essere poi sostituito dopo neanche un'ora da Salvatore di Somma. Con lui nel ruolo di DS comincia finalmente la ripartenza targata a Gianandrea De Cesare, che per ora non lascia assolutamente ma raddoppia. Friggere il pesce con l'acqua, almeno al momento, sarà la missione di Salvatore di Somma, che ha già detto alla moglie di prendersi un anno sabbatico dal matrimonio per dedicarsi solo all'avellino. Non si conosce con precisione il budget con il quale sarà allestita la rosa in attesa di uno sponsor e di ingressi economici tipo abbonamenti e biglietti che, visto il clima di tensione alle stelle, non saranno assolutamente numerosi. L'ex capitano, che sarà presentato tra lunedì e martedì della Serie A e degli anni d'oro, ha l'obiettivo di caricarsi tutto sulle spalle e costruire in tempi rapidissimi la rosa, visto che mercoledì prossimo ci sono le prime scadenze e poi c'è la coppetale e il campionato. Il primo nome sulla lista di di Somma è quello di Ezzolino Capuano. I due, nonostante le continue smentite, sono in contatto da più di un mese. Si sono sentiti al telefono anche nella giornata di ieri, in mattinata, ma nelle prossime ore potrebbe esserci un confronto diviso tra i due. Non ha ricevuto, invece, alcuna telefonata Salvatore Campilongo, che ha ottimi rapporti comunque con il nuovo DS dei Lupi, mentre circolano anche i nomi di Cersei Cosmi e Fabio Brini, ma sono piste davvero difficili. Altri tre allenatori sul taccuino di di Somma sono quelli di Roberto Cevoli, ex reggine Renate, Giuseppe Scienza nelle ultime due stagioni a Monopoli e Cristiano Lucarelli, bandiera del Livorno, ma che ha guidato in passato anche Catania e Messina.